Ho chiesto al giocatore che può arrivare a giocare a qualsiasi livello e fa la differenza a qualsiasi livello. Poi è stata un'estate che noi tutti abbiamo vissuto, abbiamo visto, abbiamo capito eccetera eccetera. Noi siamo una squadra che esprime anche un buon gioco, per lunga parte della stagione hanno fatto un gran gioco e concretizziamo poco. Oggigiorno quasi tutte le partite o no, la maggior parte delle partite sono nell'equilibrio. La differenza la fa chi c'è da giocare, chi c'è il giocatore che ti fa il gol, chi c'è il giocatore che lo fa fare, chi strappa la partita e chi c'è da giocare. Federico c'è tutto questo.